introdurre il denaro o la tessera ah che faccio? e cosa ci fa? vai! questo è il lato di sfitch no, chiamma! aro, bisogna farmi scendere la chiamata è stata ricevuta prego restare in attesa domani per la propria si prega di non scendere dal veicolo dai tu come ora, fammi ma che mamma mia ma che mamma mia ma che stanno prendendo questo? ma che stanno prendendo? ma che stanno prendendo? pronto? hai messo i due euro? se li hai preso? ma hai deciso di introdurre il denaro? eh? non ho capito 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 nell'uomo qua e adesso non ho capito ma tu capisci a chi sti che parlo, tu capisci a tu chi sti che parlo e che lei per dire ti metti la prima città annaccia annaccia un pochino e mi direi a te lo fai mettere un pochino un pochino si prega di non scendere dal veicolo non ma che fai a me e a te esprim 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 esprim